Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo video tutorial. Oggi un tutorial secondo me interessante perché vi faccio vedere un plugin un po' diverso dal solito, ovvero un plugin che vi permette di andare ad inserire una timeline all'interno di una vostra pagina web. Quindi in sostanza questo plugin vi può tornare di aiuto magari se voi siete un'azienda e volete un po' andare a definire quella che è stata la storia appunto della vostra azienda. All'inizio magari mettete quando è stata fondata la vostra azienda e poi cosa è successo insomma negli anni a venire. Quindi diciamo quelli che sono stati i passaggi più importanti della vostra attività. Quindi sono sicuro che se magari voi siete un'azienda o anche se magari siete dei liberi professionisti potete tranquillamente andare ad utilizzare questo plugin perché magari se siete dei liberi professionisti potete andare ad elencare un progetto e tutti quelli che sono stati gli step che avete effettuato per insomma terminare il progetto magari per un vostro cliente. Ad ogni modo ragazzi se questa è la prima volta che vedete uno dei miei video io mi chiamo Roberto Marchesini e sono il fondatore di assistenza a WordPress ovvero un sito web dove io insieme al mio team aiutiamo soprattutto aziende e professionisti a crearsi e a gestirsi il proprio sito utilizzando la piattaforma WordPress. Abbiamo avuto modo di utilizzare questo specifico plugin su alcuni siti dei nostri clienti e insomma sono rimasti soddisfatti del lavoro svolto. Quindi insomma conosciamo abbastanza bene questo plugin quindi adesso passo sul mio pc che vi vado a presentare il plugin e poi vi faccio vedere anche quelle che sono tutte le impostazioni che vi mette a disposizione questo plugin. Quindi passiamo alla parte pratica e vediamo questo plugin che vi permette di andare ad inserire una timeline all'interno del vostro sito WordPress. Ok ragazzi allora come vedete adesso come sempre mi trovo sul sito wordpress.org e il plugin che vi vado a recensire all'interno di questo video si chiama Cool Timeline. Ora questo plugin come vedete è disponibile in modo completamente gratuito tuttavia esiste anche una versione a pagamento del plugin quindi la versione Pro che la trovate su Timforest. Magari vi lascio il link della versione a pagamento diciamo qui sotto in descrizione così potete cliccare sul link e potete andare a vedere diciamo tutte le funzionalità che vi mette a disposizione la versione premium di questo plugin. Ad ogni modo ragazzi non vi preoccupate che all'interno di questo video tutorial quindi appunto all'interno di questa video recensione vi vado a recensire diciamo la versione gratuita di questo plugin perché se semplicemente volete andare ad inserire diciamo uno storico di base all'interno del vostro sito di quella che è diciamo magari la vostra azienda oppure quelli che sono stati i progetti che avete creato come libero professionista ebbene questo plugin già nella versione gratuita vi permette di fare questo. quindi penso che per molti di voi semplicemente la versione gratuita vada più che bene per realizzare una semplice timeline. Ad ogni modo come sempre io qui adesso mi sono preparato questo sito demo che andrò ad utilizzare insomma per andare ad inserire la timeline all'interno di una mia pagina web. Quindi ora passiamo alla parte pratica semplicemente vado a copiarmi il nome del plugin e me lo vado ad installare su questo mio sito demo. Quindi plugin aggiungi nuovo e ovviamente ragazzi sulla barra di ricerca mi vado ad incollare il nome del plugin e me lo vado ad installare e ad attivare su questo mio sito demo. Ecco qua il plugin me lo vado ad installare e ad attivare su questo sito. Ora in questo caso il plugin ha visto insomma che sto utilizzando Elementor all'interno di questo mio sito demo quindi vado a cliccare su questo link e mi vado ad installare anche l'add-on aggiuntivo che insomma mi vanno a suggerire all'interno del mio sito demo. Quindi semplicemente torno indietro vado su plugin aggiungi nuovo e vado ad installarmi anche quest'altro plugin. Così vediamo insomma come si presenta se magari anche voi state utilizzando Elementor all'interno del vostro sito web. Quindi andiamo ad installare anche quest'altro plugin e vediamo quello che ci permette di fare. Ovviamente comunque ragazzi se voi non state utilizzando Elementor all'interno del vostro sito WordPress semplicemente non andate ad installare questo secondo plugin ma andate ad installare solo il primo che vi ho fatto vedere in precedenza. Quindi praticamente solo questo plugin. Ora naturalmente per andare ad inserire la timeline tra parentesi comunque come vedete qui sono state aggiunte praticamente queste due nuove voci sulla barra di sinistra del pannello di amministrazione di WordPress dove ovviamente qui andiamo a creare le nostre timeline. Quindi semplicemente adesso vi faccio vedere le impostazioni quindi vado a cliccare su questa voce per andare appunto sulle impostazioni. Qui semplicemente potete andare a modificare diciamo l'aspetto del titolo della timeline se far visualizzare insomma il titolo al centro, a sinistra o a destra quindi l'allineamento, il numero delle storie diciamo da far visualizzare sulla timeline e così via l'ordine eccetera eccetera. Insomma classiche diciamo impostazioni che potete andare ad impostare all'interno di questa sezione. Se vado su style settings naturalmente qui potete andare a cambiare diciamo l'aspetto che avrà la timeline lato front end quindi quando proprio i vostri visitatori andranno a visualizzare appunto la timeline sulle pagine del vostro sito. Se volete, se sapete un pochino programmare in CSS qui avete il blocco di codice quindi potete andare ad inserire il vostro codice all'interno di questa sezione. Poi ovviamente se vado a cliccare su quest'altro tab qui potete andare a modificare invece la tipografia appunto che avrà la timeline all'interno della vostra pagina web e se vado sulle impostazioni avanzate ecco qui potete trovare diciamo tutte le futures quindi appunto le funzionalità che vi mette a disposizione il plugin nella versione sia gratuita che pro quindi la versione a pagamento come vi dicevo. Ora come vedete insomma la versione gratuita è abbastanza limitata ad ogni modo andiamo a vedere come si visualizza la timeline lato front end ma prima naturalmente dobbiamo andarne a creare una quindi semplicemente vado a cliccare su questo link e da qui naturalmente potrò andare a creare la mia prima timeline andiamo a cliccare su aggiungi nuovo e qui praticamente adesso dobbiamo andare a definire diciamo il primo step della nostra timeline quindi ad esempio scrivo semplicemente azienda creata giusto per dare insomma un titolo semplice qui ovviamente dobbiamo andare a definire questa data quindi qui come vedete insomma è stato aggiunto questo widget chiamiamolo così e come vi dicevo da qui dovete andare a selezionare diciamo la data del vostro evento mettiamo caso maggio 2001 andiamo a cliccare su done e qui praticamente all'interno di questo campo dovete andare ad inserire l'aspetto che avrà praticamente la descrizione della vostra timeline quindi l'evento che è successo su questa determinata data ovviamente qui potete andare ad inserire un po' quello che volete ma di solito si va ad inserire semplicemente un'immagine e un testo quindi vado ad aggiungere una nuova immagine diciamo per descrivere questo evento semplicemente vado a scegliere diciamo un'immagine a caso giusto per questo video tutorial e poi qui sotto praticamente vado ad inserire del testo di prova quindi semplicemente del testo in questo modo ok e ora semplicemente vado a pubblicare il mio primo evento quindi l'evento che è successo a maggio del 2001 se non sbaglio ho selezionato adesso non mi aveva preso la data non so il perché 2001 e poi andiamo ad aggiornare la nostra pagina e adesso praticamente la data ovviamente verrà applicata è quella qui benissimo ora ovviamente dovete andare su tutte le storie di nuovo e dovete andare ad inserire il nuovo evento quindi come vedete diciamo da qui potete andare a vedere tutti gli eventi che sono successi e che volete ovviamente andare ad inserire all'interno della vostra timeline quindi adesso l'evento azienda creata questo evento appunto è successo nel 2001 questa è la data esatta e questa è l'icona che verrà visualizzata al lato frontend e ora ovviamente dovete fare la stessa procedura anche per tutti gli altri eventi che sono successi negli anni a venire quindi ovviamente ragazzi adesso io taglio il video perché vado ad aggiungere insomma degli eventi molto velocemente e vi farò vedere come verrà visualizzata la timeline lato frontend quindi le andremo ad inserire su una pagina demo diciamo all'interno di questo sito web perfetto ragazzi adesso come vedete sono semplicemente andato ad aggiungermi questi eventi demo quindi adesso vi faccio vedere come andare ad aggiungere la timeline su una vostra pagina web semplicemente vado a creare una nuova pagina quindi pagine aggiungi pagina ovviamente come titolo magari vado a scrivere azienda storico quindi azienda storico giusto insomma per farvi vedere e qui naturalmente se andiamo a cliccare su più andiamo ad aggiungere un nuovo blocco su Gutenberg se state utilizzando Gutenberg ecco qui andate ad inserire praticamente questo blocco quindi andate a cliccare qui e semplicemente andate a pubblicare la vostra pagina quindi in questo modo poi ovviamente andiamo a visualizzare lato frontend ed ecco qui ragazzi che come vedete la timeline viene visualizzata correttamente all'interno della nostra pagina infatti qui potete andare a vedere l'anno ovviamente la data del determinato evento il nome dell'evento l'immagine che abbiamo scelto insomma lato back end quando sono andato ad inserire questo evento il vario testo e così via quindi se scolo la pagina ovviamente ecco qua che qui insomma l'azienda è stata creata nel 2001 quindi la timeline di base diciamo si visualizza in questo modo ora come vi dicevo dalle impostazioni qui dal back end se andate qui su cool timeline settings quindi appunto sulle impostazioni se andate su style qui praticamente potete andare a cambiare come vengono visualizzati diciamo i colori principali della vostra timeline quindi ad esempio se volete andare a cambiare questo verde e diciamo questo arancione come vedete questi colori diciamo principali e secondari lo potete fare dal back end qui di wordpress questa cosa ovviamente vi può tornare di aiuto per andare ad utilizzare dei colori che magari utilizzate spesso all'interno del vostro sito web ovviamente come vi dicevo potete anche andare a cambiare come vengono visualizzati i font sempre all'interno della vostra timeline perché questo è il font che viene visualizzato di default ma se volete ve lo potete andare a cambiare a vostro piacimento ora questo diciamo è come viene visualizzata la timeline in modo completamente gratuito come vi dicevo magari per la maggior parte di voi è più che sufficiente tuttavia se volete andare a vedere quello che vi permette di fare il plugin nella modalità diciamo a pagamento vi basta andare sulle schede del plugin che comunque vi lascio il link qui sotto in descrizione andate a cliccare su preview quindi sull'anteprima e qui adesso gli sviluppatori hanno creato davvero tantissimi esempi pratici che vi fanno vedere quello che vi permette di fare questo plugin ad esempio se vado a vedere diciamo le viste di default quindi la vista che ho appena inserito io all'interno del sito demo però questa vista è stata creata utilizzando la versione pro del plugin infatti come vedete sono state aggiunte diciamo delle animazioni quando scorro la pagina in basso inoltre come vedete c'è anche la timeline qui sulla destra che ovviamente se la vado a cliccare posso scorrere tra i vari eventi che ho inserito all'interno della timeline ora questo è un design ovviamente hanno creato anche altri design gli sviluppatori come potete vedere quindi se scorro molto velocemente questo sarebbe un altro design che potete andare ad applicare alla vostra timeline questo è un altro come vedete e così via comunque ancora semplicemente andate sulla scheda del plugin andate qui su preview item e andate a vedere tutti gli esempi pratici che vi hanno preparato gli sviluppatori del plugin comunque ancora secondo me già nella versione gratuita molto probabilmente questo plugin vi è più che sufficiente per quello che volete andare ad inserire all'interno del vostro progetto online ok ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo video naturalmente se vi sono stato di aiuto per cortesia come sempre vi invito a lasciarmi un bel mi piace sotto a questo video e se non lo avete ancora fatto vi invito anche ad iscrivervi al nostro canale youtube oppure di mettere sempre un bel mi piace sulla nostra pagina facebook in questo modo mi aiutate insomma a raggiungere sempre più persone con i miei video tutorial ora naturalmente ragazzi all'interno di questo video vi ho fatto vedere il plugin che vi consente di inserire una timeline all'interno del vostro sito spero naturalmente che questo plugin vi tornerà di aiuto per la vostra attività come vi dicevo all'inizio il plugin insomma vi può tornare di aiuto se magari siete un'azienda e volete diciamo andare a definire un po' quello che è stato lo storico della vostra attività in questo modo un utente se magari va a leggere la vostra pagina chi siamo può vedere quello che è stato lo storico della vostra attività questo naturalmente in modo professionale e senza diciamo andare a scrivere davvero tantissimo contenuto che insomma al giorno d'oggi diciamoci la verità poche persone vanno a leggere la pagina chi siamo di un'azienda se magari hanno scritto 2000 parole all'interno della pagina chi siamo meglio andare a creare appunto una timeline con i vari anni e magari al suo interno potete andare a scrivere un breve paragrafo di quello che è successo in un determinato anno quindi insomma sono sicuro che questo plugin vi può tornare di aiuto per la vostra attività detto questo ragazzi ancora io spero vivamente che vi sono stato di aiuto con questo video tutorial come sempre se avete dubbi o domande potete lasciarmi il vostro commento sotto a questo video sappiate che io leggo sempre insomma tutti i commenti e cerco di rispondere al numero più alto di commenti possibili quindi non mi resta altro che salutarvi per questo tutorial insomma è tutto e noi naturalmente comunque ci vediamo all'interno del prossimo video quindi vi saluto e ci vediamo nel prossimo tutorial vi saluto e ci vediamo al prossimo video